nella catenina d'oro. La rapina è avvenuta circa un mese fa a bordo di un treno regionale Prato-Firenze all'altezza della stazione del Neto. Il malvivente è stato arrestato dalla polizia ferroviaria grazie alle immagini di videosorveglianza dello scompartimento ferroviario che, come possiamo vedere, hanno ripreso quanto accaduto, a colpire la sfrontatezza del rapinatore e la mancanza di reazione degli altri passeggeri che stanno accanto alla vittima. Il rapinatore è un cittadino israeliano di 31 anni catturato nei pressi della stazione di Prato dalla Polfer che già lo aveva arrestato nel 2013 per un fatto analogo. Adesso si trova nel carcere della Dogaia.